messageri ecco oggi 2 novembre giorno dei morti io ho messo sugli alberi di natale dall'anno scorso e anche di quest'anno dei nuovi c'è di resina ipossidica c'è questo che è lo story con la scritta il sole del creatore giunge col dentro affogato un piccolo c'è e la piccola anima che per il momento l'ho messo sull'albero dei peni che poi mi arrederemo se mi ridanno gli altri sequestrati e se non mi ridanno siccome chi li fa è ancora vivo e legito e preparerò degli altri per il santo natale e questo è l'altro c'è che ho fatto sempre in resina ipossidica dove dentro al corpo ci sono affogati tanti altri piccoli c'è e anime come si può vedere che c'è un'anima affogata un'altra anima lì un'altra anima lì e poi un'altra anima lì si vede no e poi anche lì andando su praticamente dentro questo grande fallo è pieno di piccoli falli e di piccole anime che vogliono uscire e iniziare la loro esistenza mi sembra una cosa piuttosto sacra e questo è il nuovo elemento che mi è venuto in mente ieri sera di fare e che adesso si trova già sul suo posto di comunicazione da dove dirà che cosa è venuto a messaggiare questo c'è ok io per il momento ho finito e posso chiudere il video facendo vedere un attimino anche la trasparenza del genere un'unica ok messaggeriamo un po' esageriamo un po' messaggeriamo 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 un po' Grazie a tutti.